Non è un'altra cosa. Non è una velocità, ma non è una velocità. Non è una velocità, ma non è. Mi è uscita a... Mi è uscita? Ma qui da un certo punto? Stiamo scendendo un bel po' Ma il capo è perciò che c'è sole. Vai ragazzi, su. Vai davanti, Loris. Maggio! Sì, 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 sì Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.